Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Le correnti settentrionali di questo weekend hanno riportato le temperature nella media del periodo e localmente anche sottomedia. In alcune zone si è ritornato a respirare dopo la grande calura della scorsa settimana. L'attuale settimana invece vedrà contrapporsi il fresco dei primi giorni al ritorno del caldo da metà settimana, con temperature che localmente ritorneranno a toccare i 38 gradi con aumento dell'afa lungo le coste. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni, per martedì 18 luglio. Deboli correnti settentrionali continueranno a soffiare sulle nostre regioni, mantenendo un clima fresco ma solleggiato durante tutto l'arco della giornata, con cieli terzi ovunque. Temperature, come notiamo dalla grafica, in aumento di 1-2 gradi, sia nei valori massimi che nei valori minimi. I venti saranno moderati dai quadranti settentrionali e per quanto riguarda i mari, da molto mosso il canale d'Otranto, a mossolo adriatico, poco mosso invece lo Ionio. Per il nostro consueto appuntamento con la foto del giorno, oggi ringraziamo il nostro telespettatore, Quintino Mita, per averci regalato questo fondale così azzurro e cristallino da Torre dell'Orso, in Salento. In primo piano vediamo le cosiddette due sorelle, imponenti faraglioni calcari che affiorano dinanzi alla costa. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattateci al numero Whatsapp e all'email che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.